Gara 1 della semifinale playoff di Serie C, Valla, Web Corner, Sicimonte Varchi, capace di espugnare il palasporta estra 65-58, meritando alla fine di conquistare il primo punto di questa serie. La chiave della partita è stata la capacità della Fides di tenere gli amaranto a soli 58 punti realizzati, frenando nel terzo quarto la fluidità del gioco offensivo a retino. La prima parte di Gara era stata però positiva per l'Amen, la squadra di Delia è pimpante veloce, le triple di Provence alla regalano un primo strappo 14-4 al quinto, poi la Fides risponde con mala testa ai Bonciani per chiudere sotto di due lunghezze al primo intervallo. Nel secondo quarto non cambia il tema della partita, l'Amen viene trascinata in attacco da Cuttini, riuscendo ad andare all'intervallo lungo sul più 10, non riuscendo però a concretizzare quanto di buono messo in campo con uno scellerato 0-7 dalla lunetta. A rietro dagli spogliatoi gli ospiti hanno un'altra marcia, ma la testa e Giuliana puliscono una distratta difesa a Sba, così la Fides prima recupera rapidamente lo svantaggio, poi mette la freccia per il sorpasso, sfruttando il blocco offensivo amaranto. Nell'ultimo quarto l'Amen non si sblocca e diversamente da altre giornate non riesce neanche in difesa a tenere gli avversari, concedendo rimbalzi offensivi pesanti alla Fides. Quando anche Tommaso Sereni diventa un fattore in attacco, la Sba subisce il colpo, si arriva nei minuti finali con gli ospiti avanti di qualche lunghezza, la Sba ci prova tornando sotto di tre punti, ma la Fides non si piega e gestisce con attenzione e determinazione gli ultimi possessi, portando a casa il successo 65-58. Adesso la serie si sposta in Val D'Arno con gara 2 a Montevarchi, mercoledì alle 21.15, una gara da dentro e fuori per l'Amen costretta a vincere per non terminare una stagione che ha comunque regalato tante soddisfazioni ai colori amaranto.